Siete dei giovani fotografi che si apprestano a fare la loro prima esperienza in sala posa e non avete la minima idea di cosa questo comporti? Beh, a queste condizioni che cosa potrebbe mai andare storto? Nel corso di questo video vado a parlarvi di alcuni errori che io ovviamente ho fatto e che sono stati cruciali per capire come si lavora in sala posa. Se seguirete questo video fino alla fine sicuramente arriverete a fare il vostro primo shooting in sala posa con una consapevolezza diversa, facendo meno errori e sprecando molti meno soldi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da così tanti anni che ho fatto tantissimi errori per cui ve ne porto un po' su questo canale in maniera tale che voi non dobbiate ripeterli per capire come si fanno determinate cose. Quindi per chi si sta affacciando e veramente non ne sa assolutamente niente dovete sapere che esistono delle sale posa, ovvero delle stanze che vengono noleggiate dove noi troviamo dei muri trattati e delle luci dove possiamo realizzare le nostre foto in un ambiente con luce pienamente controllata. Io vado spesso in sala posa perché ci sono cose che in una stanza normale non si possono fare quindi per evitare riflessi o per poter oscurare la stanza o per poter lavorare con tanto spazio posizionando delle luci anche lontane ecco che si va in sala posa. In sala posa si può lavorare sia con le luci continue sia con le luci flash quindi questo non è un video sul flash ma è un video generale sulla sala posa e in generale su come approcciare un lavoro con modelli e modelle e un nostro progetto personale piuttosto che un editoriale. Prima di cominciare io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto per non perdere altri contenuti interessanti come questo. Vi devo anche fare un appello. Una cosa che ho notato recentemente è che il canale sta crescendo troppo velocemente rispetto all'interesse che poi riscuote veramente. Traduco. Tantissimi di voi si iscrivono perché magari trovano interessante un determinato contenuto però poi non tutti guardano con continuità tutti i contenuti che vengono pubblicati. Questo che cosa comporta? L'algoritmo vede che io ho tanto seguito ma poi i video non hanno il successo che dovrebbero avere in base al numero di iscritti. Quindi l'appello che vi faccio è quando vi iscrivete cercate di sfogliare un po' di contenuti in maniera tale che al di là del fatto che imparate qualcosa date una mano a questo canale. È completamente gratis. L'altra cosa condividete nel momento in cui trovate un video che per voi è stato utile condividetelo con i vostri amici fotografi in modo che il canale giri un po' in modo che l'algoritmo sia un po' più clemente. Benissimo ma andiamo a incominciare. Errore numero uno. L'errore più grande secondo me che si può fare quando si affitta una sala posa è arrivare in sala posa senza aver pianificato che cosa dobbiamo fare. Mi spiego meglio. Io magari sto pagando una modella pagando una stylist pagando una mua pagando la sala posa la strumentazione l'affitto delle luci tutto quanto non ultimo il mio tempo arrivo lì ci guardiamo in faccia e ci diciamo ok dai bello che si fa oggi disastro catastrofe catombe va pianificato tutto prima bisogna decidere che cosa si farà che cosa facciamo facciamo glamour facciamo beauty che cosa facciamo bisogna già saperlo la persona che verrà fotografata deve sapere che capi portarsi quanti cambi portare la mua deve sapere che trucchi dovrà fare la stylist deve sapere qual è l'obiettivo che cosa si deve andare a raggiungere con questo shooting non ultimo il fotografo io devo sapere che tipo di ottiche portarmi per realizzare delle fotografie di un determinato tipo cosa facciamo andiamo in studio mi porto un fisciaio andiamo in studio mi porto un macro più probabile che mi porterò un 85 un 35 però lo devo sapere perché se no o mi porto tutto quello che ho e faccio una fatica bestia oppure lascio a casa qualcosa mi dimentico qualcosa e poi il problema più grande comunque è che se noi andiamo lì senza sapere che cosa dobbiamo realizzare per sapere intendo per filo e per segno noi dobbiamo averci lavorato prima noi dobbiamo sapere esattamente la modella come dovrà essere vestita che trucco dovrà avere che espressione dovrà avere che posa dovrà fare che luce dovrà avere e noi dobbiamo andare lì con l'idea di realizzare quello scatto poi ci sembra troppo poco benissimo una volta che abbiamo identificato il look che vogliamo scegliamo 6 o 7 pose fidatevi la prima volta che andate in sala posa non riuscirete a tirare fuori più di 5 foto buone quindi tanto vale concentrarsi e fare bene quelle 5 piuttosto che fare come ho fatto io io le prime volte che sono andato in sala posa si arrivava lì e si diceva che si fa scattiamo tu scatta quindi raffiche 100.000 foto si arriva a casa e si dice buttare 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 alla fine shooting da 450 foto ne salvavi 2 e allora tanto valeva farne 2 fatte bene perché quelle due erano uscite neanche bene erano uscite passabili completamente a caso quindi non c'era dietro un lavoro non c'era dietro una pianificazione non c'era dietro nemmeno un'intenzione erano uscite bene così a caso perché la ragazza stava facendo un volteggio magari lavorare così è terrificante quindi questo è il primo grandissimo errore secondo errore clamoroso che io consiglio assolutamente di evitare riguarda la gestione delle luci ovvero quando noi andiamo in sala posa è un ambiente tendenzialmente neutro tendenzialmente oscurato perché ci sono delle luci come quella che sto usando io qui adesso io questa se la spengo ve l'ho già fatto vedere tante volte cosa succede se la spengo io divento tutto scuro e fa schifo quindi devo usarle le luci in sala posa se no scattavo in esterno non aveva senso affittare la sala se non usavo le luci quindi uso le luci continue o flash che siano nel momento in cui io posiziono le luci lo devo fare con consapevolezza quindi lo schema luci da utilizzare devo essermelo guardato prima altrimenti di nuovo si rientra un po' anche questo nella pianificazione però è più specifico cioè se io vado in sala posa ho tutto a posto la mua la stylist la modella hanno tutte perfette e io dico benissimo adesso metto una luce a caso e vediamo come viene e faccio dieci scatti di prova poi dopo dieci scatti mi rendo conto dico no ma così fa schifo allora la sposto in un altro modo e aggiungo altre tre luci a caso e così è randomica la cosa cioè il successo o meno dello shooting è delegato completamente al caso io non sono in grado di definire il look che voglio dare e quindi giriamo look a caso sperando che in un determinato momento la modella si metta in un modo tale per cui vada bene proprio con le luci che ho messo lavorare così è impensabile così facciamo 450 foto ma ce ne saranno zero buone perché è una cosa troppo casuale per dare dei risultati positivi quindi studiamocela bene se è una luce beauty ci sono dei canoni per farla in un certo modo se è una rembrandt si fa in un certo modo se è una luce loop si fa in un certo modo in questo momento io sto usando una luce che è sì è una via di mezzo tra una loop e una rembrandt perché comunque c'è un po' di luce qui sullo zigomo se fosse così sarebbe rembrandt perché qui vedete che di luce ce n'è di meno però io stando dritto questa forse è più una loop però è studiata io ho deciso le posizioni di queste luci non ce n'è una messa a caso e soprattutto non è che ogni volta che vengo qui a registrare un video le metto a caso e vedere come viene le metto sempre nello stesso posto è molto importante sapere prima che tipo di risultato si vuole ottenere io devo aver visualizzato che tipo di foto voglio e se l'ho visualizzata e se ho le referenze abbiamo gli smartphone abbiamo tutti gli strumenti per farlo ho le referenze lì con me quindi ho tutti gli strumenti per dire deve venire così sta venendo così sì benissimo allora facciamo più pose non sta venendo così che cosa c'è che non va interveniamo su quello che c'è che non va e facciamo venire fuori questa scena che abbiamo deciso perché altrimenti stiamo buttando soldi un altro errore che ho visto fare spesso e che è capitato anche a me di fare è di andare in sala posa con un team di persone non all'altezza attenzione non all'altezza cosa vuol dire non che io ero un fenomeno e loro erano dei cani ero un cane io per primo perché io ho affittato la sala posa e io sono andato in sala posa con un team non adeguato perché non avevo le competenze per capire che cosa vuol dire avere un team adeguato cosa vuol dire un team adeguato vuol dire che se io ho una mua si deve occupare di quella cosa lì e deve essere professionale deve essere precisa e attenta non deve essere la cugina che ti fa i capelli all'inizio e poi esce a fumare e si fa gli affari suoi per due ore deve essere una che sta lì e che sta attenta lei se c'è un capello fuori posto perché io sto scattando sto guardando le luci sto guardando la posa le posizioni tutto quanto io non me ne accorgo se c'è un capello fuori posto ci vuole una mua che stia lì e che si renda conto di questa cosa la stylist stessa cosa io non posso prendere la zia Ernesta che viene con un po' di bigiotteria di famiglia e dice si dai alla modella le mettiamo due anelli e poi esce fuori a parlare con sua cugina Renata e parlano del cane che ha vomitato sul tappeto non va bene ci vuole una persona che stia lì e che stia attenta se il bavero della giacca ha preso una piega che non va bene e che vada lì a rimetterla a posto a me è capitato di lavorare con un team che quasi non mi lasciava scattare perché ogni singolo scatto che io facevo mi dicevano aspetta aspetta e andavano lì e pettinavano e rimettevano e la lacca e la giacca tutto sistemato e lavorare con un team così significa che tu non fai foto che non vanno bene non ti trovi poi a casa con la foto con i capelli sull'occhio la foto con la piega della giacca la foto col pelucco del maglione tutte da buttare o comunque da post produrre pesantemente invece no se hai un team che ti aiuta che ti supporta in questo ti troverai con quasi solo foto buone e arriviamo all'ultimo probabilmente errore del video di oggi è un errore che ovviamente ho fatto anch'io ed è quello di non informarsi su che luci ci sono in studio questo perché è importantissimo innanzitutto perché magari noi abbiamo bisogno di 4 punti luce se quello studio te ne mette a disposizione solo 3 vuol dire che tu quando arrivi lì avevi preventivato di pagare totti invece dovrai affittare una luce in più sempre che sia disponibile perché magari sono tutte occupate quindi già questo è da evitare devi chiedere che modificatori ci sono se arrivi lì e non hanno il modificatore che serve a te magari a te serve un beauty dish e lì hanno soltanto octabox magari non ti va bene sì la puoi cavare lo stesso però magari non ti va bene per determinati motivi magari devi fotografare una bottiglia d'olio e ti servono dei bank e hanno solo octabox in quel caso non va bene ma soprattutto la cosa più importante è informarsi se si lavora con luce continua o con luce flash molti studi ti danno la possibilità di scegliere ma se per esempio decidi di lavorare con luce flash devi informarti su che luci hanno e se hanno il cavo o se hanno il trigger wireless e se hanno il cavo purtroppo molti studi hanno ancora il cavo bisogna vedere se la tua macchina ha l'ingresso per quel cavo a me è capitato non dico spesso ma mi è capitato di andare in studi con cui poi ho avuto una collaborazione di anni però le prime volte io arrivavo lì e mi dicevano ah ma tu hai quella macchina entry level che non ha l'ingresso per il cavo del flash e che si fa e abbiamo dovuto inventarci un accrocchio che stava su con il nastro isolante per far passare un contatto attraverso la hot shoe per far passare il segnale ai flash però era una situazione di disagio che si sarebbe potuta evitare se solo io avessi saputo e mi fossi informato su che luci avevano così avrei potuto verificare che non avevo il cavo adatto per quelle luci bene amici questo è un video un po' diverso dal solito abbiamo parlato di sala posa non so a quanti di voi interessa secondo me è un mondo affascinante che può andare bene sia per fare foto di persone quindi modelli ma anche per fare still life e anche soprattutto per progetti personali dove possiamo sperimentare in maniera creativa con delle luci che in esterna o a casa nostra difficilmente potremmo avere fatemi sapere in un commento se questo tipo di contenuto vi interessa perché potrei portarvene altri con altri errori esilaranti che ho fatto nel corso degli anni io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio Grazie per la visione!